Com'è la tua giornata tipica? Descrivi la tua giornata dal momento in cui ti svegli al momento in cui vai a dormire. Bienvenidos a esta duodessima lezione del videocurso italiano para principiante. So, hai preparato una gran classe, assicché empecemos già. Com'è la tua giornata tipica? Com'è? Com'è è una parola composta da come e poi è del verbo essere. L'apostrofo, che ti segnalo qui, serve per darci l'intenzione fonetica di continuità. I seleto d'oppegado, a pesar de che sono dos palavras distintas. Com'è? Com'è? Con l'accento nel verbo essere. Com'è la tua giornata tipica? Com'è la tua giornata tipica? Gio, gio, gutturale, giornata tipica. Significa come è tuo dia tipico o tua giornata tipica? Descrivi la tua giornata dal momento in cui ti svegli. Significa descrive tu dia, tua giornata, desde il momento, dal momento, desde il momento in cui ti despiertas. Quindi molto importante. Descrivi la tua giornata dal momento in cui ti svegli al momento in cui vai a dormire. Claramente, vamos già apprendendo algo molto importante. Dal significa desde, a partir de. Quindi dal momento, desde il momento. E nel qual, e nel qual, e nel qual, in cui, significa e nel qual, te despiertas, hasta, e il momento, e nel qual, vas a dormire. Lo rileggiamo brevemente. Descrivi la tua giornata dal momento in cui ti svegli al momento in cui vai a dormire. Iniziamo dunque questa descrizione. Ovviamente si tratta sempre di esempi che io invento per tentare questa, diciamo, pluralità di situazioni. E quindi immagino tante situazioni nella tua vita, nella mia vita. Impariamo insieme. Mi sveglio presto al mattino e faccio una doccia veloce. Guarda quante cose importanti dal punto di vista fonetico. Mi sveglio, me despierto, presto al mattino, temprano alla maniana. E faccio una doccia veloce. Iago una duccia veloz. Perché è molto importante la fonetica. Guarda bene. Mi sveglio. Mi sveglio. Muchas personas siempre dicen, è normal, uno che sta acostumbrato al castellano dice, e sveglio con una e anteriore alla s. No. S. S. Sveglio. Direttamente con la s. S. Sveglio. S. 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 Sveglio. Sveglio. Mi sveglio. Mi sveglio. Presto al mattino. E faccio. Faccio. Immaginate un ace. Faccio. Una doccia. Immaginate entre la C de Cáceres y la I. Otra H aquí también. Docha. Para que te salga la transcripción fonética al español. Una doccia veloce. Faccio. Una doccia veloce. Y como sé que todo eso es un poco complicado, recuerda que aquí arriba tienes mi número personal de WhatsApp. Solo yo respondo ahí porque es mi teléfono personal. Y me puedes enviar un simple mensaje, un texto, clases particulares. Escríbeme clases particulares y yo sabré que quieres más informaciones sobre las clases que hacemos tú y yo. en videoconferencia para que yo pueda enseñarte a pronunciar correttamente con una fonética excelente. Y son señal todos los problemas fonéticos. Mi sveglio presto al mattino e faccio una doccia veloce. Mi vesto, che è anche un verbo riflessivo, sería yo me visto, me visto a mí mismo, no? Mi vesto e vado in cucina per preparare la colazione. Me visto y voy a la cocina para preparar el desayuno. Colazione desayuno. Mi vesto e vado in cucina per preparare la colazione. Mangio un po' di frutta, molto buona, molto gustosa. Mangio, mangio un po' di frutta. Perché un po'? Perché c'è l'accento di frutta e yogurt e bevo un caffè. Questo noi in italiano lo pronunciamo iogurt. E bevo un caffè. Como un po' di frutta e yogurt e tomo un caffè. Poi esco di casa. Poi, dopo, después. Esco di casa. Esco. Esco di casa per andare a lavorare. Por favor, esfuercate tú también con esto de la fonética. Recuerda que yo soy italiano 100%. Además que he trabajado en teatro. He hecho mucho curso de dicción en televisión, en el cine. Por lo tanto, digamos que tengo una fonética muy, muy, muy buena. Y por lo tanto, quiero enseñarte esta excelencia. Si yo me esfuerzo es porque articulando bien la boca es posible realmente crear esos sonidos redondos que se entienden. Y fíjate que muy probablemente me entiendes más fácilmente a mí que a otros italianos por esta claridad. Cuanto más puedes tú conseguir en la vida si te puedes expresar a un nivel de excelencia. Piénsalo y recuérdate este número. Poi esco di casa per andare a lavorare. Luego salgo de la casa para ir a trabajar. Lavoro per circa 9 horas al giorno. Lavoro per circa, questo si legge circa, circa 9 horas al giorno. Trabajo durante alrededor de 9 horas al día. O trabajo por 9 horas al día. Circa significa más o menos o alrededor de. A metà giornata faccio una pausa per mangiare qualcosa. Solitamente un panino o un piatto di pasta alla mensa. Ripetiamo. A metà giornata faccio una pausa per mangiare qualcosa. Qualcosa significa a mitad del día, a mitad jornada, literalmente hago una pausa para comer algo. Qualcosa significa algo. Solitamente, usualmente, solitamente un panino o un piatto. Piatto, piatto, no es piatto, piatto di pasta alla mensa. Significa, usualmente, un boccadillo o un plato de pasta alla mensa. La mensa è dove servono il mangiare in ambito corporativo, in ambito scolastico e poi ci sono anche le mense private. Continuo a lavorare fino alle 6, quando posso finalmente tornare a casa. Continuo a lavorare fino alle 6, quando posso finalmente tornare a casa. Significa, sigo trabajando hasta la 6, quando posso finalmente volvere a casa. Arrivo a casa, arrivo con due R, arrivo a casa e mi preparo qualcosa da mangiare velocemente, velocemente, velocemente. Significa, sigo a casa e mi preparo algo por comer rapidamente. Non vi preoccupate perché poi leggeremo con la corretta intonazione secondo la mia tipica metodologia. Dopodichè mi dedico alla mia passione. Imparo l'italiano. Dopodichè mi dedico alla mia passione. Passione. Imparo l'italiano. Dopodichè significa, después de che, o después de ello, literalmente, o después de che, mejor me dedico a mi passione. Aprender italiano. Pratico tutte le sere per circa 60 minuti. È il modo migliore per rilassarmi dopo una lunga giornata di lavoro. Vediamolo di nuovo. Pratico, pratico tutte, tutte le sere per circa 60 minuti. È il modo migliore per rilassarmi dopo una lunga giornata di lavoro. Pratico tutte le sere per circa 60 minuti. È il modo migliore per rilassarmi dopo una lunga giornata di lavoro. Significa, pratico tutte le sere per circa 60 minuti. O durante, più o meno 60 minuti. È il modo o la maniera migliore per rilassarmi dopo un lungo giorno di lavoro. Notate una cosa. La maniera migliore per rilassarmi. Infine, vado a dormire, solitamente verso mezzanotte. Infine, vado a dormire, solitamente verso mezzanotte. Mezzanotte, attenzione, mezza, immaginate una de dedo, mezzanotte. Al fin, voi a dormire, usualmente al redor de medianoce. Allora, questa è una lezione molto interessante. Mi raccomando, adesso facciamo una nuova lettura. Quindi leggeremo nuovamente questo testo con la corretta intonazione. Quindi preparatevi anche a mettere in pausa per poter fare questo importante lavoro di pronuncia. Allora, prima di cominciare con questa fantastica lettura, voglio ricordare che qui sotto in questo video ci sono due super importanti. Il primo che vas a incontrare è per poter ricevere il video di gratuito italiano, introducendo il tuo coroio elettronico, aceptando la recezione dei video di forma gratuita, suscribendoti con il botone di farlo super rapido. In un instante, riceverai tutto il tuo coroio elettronico. Ya i primi video di gratuito del giorno di oggi. E durante una settimana, riceverai tutto il video di gratuito italiano, che di forma molto solidaria ti va a insegnare a conversare in italiano secondo situazioni della vita reale di una forma super prattica. Molte persone hanno già questo coroio perfettamente bene, per quanto faccio i video in italiano, mi entiendono totalmente. È un coro super importante. Se ti piace questo che faccio per YouTube, realmente non perdere la struttura graduale che ho preparato per poter seguire avanzando qui in mia pagina web. Encuentras, quindi, questa opportunità, qui arriva marcoizia.com, il enlace, o anche lo ho posto, il primo enlace che sta sotto il video in la descrizione, per che puoi suscribiri al video coroio gratuito italiano e basico, per che, da zero, comienze arrancando questo meraviglioso idioma. Otra opportunità incredibile, e questo realmente non la perdere, perché è il secondo enlace che trovi qui in la descrizione del presente video, è che sta la opportunità di ricevere il video coro gratuito, perdonami, il video coro completo di italiano, per che puoi sapere, per che puoi comunicarti in tutte le situazioni della vita reale. Per lo tanto, mira, questa è la offerta incredibile che ti presento, un sistema estratégico per aprendere a parlare, pronunciare e comunicare in italiano, di verità, senza esforzo e di forma facile, pratica, fluida e rapida. E in quanto ti chiede inscrivere in questo video coro completo di italiano, che, anche di tutte le situazioni della vita reale in Italia, ti va a insegnare anche, mediante un crono programma semestral, vas praticamente a recebire di inmediato tutti i video che ti permitano comunicarti, dominar le situazioni di tua estadia, di tua vita in Italia, con una facilità e con una practicità incredibile. Ho preparato, quindi, video in tutte le situazioni reali, per che puoi dominare e comunicarti senza problemi in Italia in questa situazione, restaurante, hotel, compras, taxi, aeroporto, il treno, la discoteca, il bar, museo, turismo, teatros, moda, se volete alquilar o comprare casa, ir de comprare al mercato, parque, ir a comprare ropa o si tienes alguna situazione de doctor, emergencias, documentos, para si quieres sacarte una parte de nascimento, o situazioni de documentos burocraticos, banco, para que te abres una cuenta bancaria, estetica, correo, si quieres recibir o enviar correos o paquetes, picnic, intercambio cultural e lingüístico, las principales cidades italianas, Roma, Florencia, Venecia, para que te guies y te conduzcas en estas maravosas ciudades, entrevistas de trabajo, para que quieras eventualmente poderte expresar e pedir una entrevista e eventualmente tener un buen trabajo, excursiones, socialidad, fútbol, deporte, pedir direcciones para poderte mover, filosofía, historia, cultura, música, realmente playas, lo tenemos todo, esto nada más es lo que recibes inmediatamente al inscribirte a esta increíble oportunidad, pero no es todo, porque no solamente recibes todo esto de una vez para estudiar todos esos videos y aprender a comunicarte en todas esas situaciones, sino que también tienes acceso al crono, programa semestral, para que durante seis meses tú recibas al mismo increíble precio en oferta especial, que es súper solidario, sobre todo pensado para América Latina, para que sea accesible a todos, sin límites, y entonces te permite durante seis meses de tener acceso a este crono, programa semestral, que te enseña paso a paso cómo dominar tu idioma, cómo tenerlo todo para poder aprender realmente a comunicarte de forma práctica. Esta, por ejemplo, la primera semana, puedes descargar todo, todos los archivos en MP4, MP3 y el PDF para imprimirlo y tener el video directamente también descargado en tu unidad de dispositivo móvil, en tu computadora, tableta, y esto te permite estudiar en cualquier lado, incluso sin internet. Puedes prácticamente visitar Roma y está todo el diálogo para tu primer día en que arranques esta experiencia, está en texto de comprensiones para hacer ejercicios de varios géneros, para entender las personas, aprender con la música, muy divertido para también tener un momento de alegría, de simpatía. Está la gramática de forma súper simplificada con ejercicios y ejemplos de la vida real para que no te pierdas en teoría aburrida, pero que sepa realmente cómo conjugar los verbos. Están los quiz para que puedas seguir evaluando tu progreso con quiz automáticos que te enseñan cómo mejorar de los errores y tener la solución correcta. Como te he dicho, puedes descargarlo todo. Hay también los ejercicios fonéticos que son muy útiles para que practicas. Realmente lo tienes todo en un sistema estratégico que te permite realmente dominar este maravilloso idioma. Y sin dudas te sugiero que tomes esta oportunidad, lo encuentras en el enlace aquí abajo, es el segundo enlace por debajo de este video en la descripción. Y realmente en cuanto te inscribas ya lo vas a tener todo. ¡Muy bien! Adesso quello que facciamo es iniciar la lectura. Como siempre, dammi un mi piace. Se ti interessa continuare a vedere questi video, sottoscriviti al canale di YouTube, attiva la campanella. In questa maniera non ti perderai nessuno di questi meravigliosi video. Iniziamo la lectura. Preparaos, porque yo lo que voy a hacer es ahora leerlo como lo hace un italiano con normalidad, con una buena entonación, con una buena fonética, y tú por favor pausa en cualquier momento, por si quieres semularme, intentar mejorar tu pronunciación con esta práctica que hacemos. Yo empiezo. Allora inizio, va bene? Siamo pronti? Molto bene. Com'è la tua giornata tipica? Descrivi la tua giornata dal momento in cui ti svegli al momento in cui vai a dormire. Mi sveglio presto al mattino e faccio una doccia veloce. Mi vesto e vado in cucina per preparare la colazione. Mangio un po' di frutta e yogurt e bevo un caffè. Poi esco di casa per andare a lavorare. Lavoro per circa nove ore al giorno. A metà giornata faccio una pausa per mangiare qualcosa, solitamente un panino o un piatto di pasta alla mensa. Continuo a lavorare fino alle sei, quando posso finalmente tornare a casa. Arrivo a casa e mi preparo qualcosa da mangiare velocemente. Dopodiché mi dedico alla mia passione. Imparo l'italiano. Pratico tutte le sere per circa 60 minuti. È il modo migliore per rilassarmi dopo una lunga giornata di lavoro. Infine vado a dormire, solitamente verso mezzanotte. Cari amici, spero che questa lezione vi sia piaciuta. Io sempre con molto affetto sono qui con voi e spero che le saia gustato. Realmente un fuerte abrazo a a tutti. Ustedes, per favore, commenten qui sotto, darle like a questo video se li ha piaciuto. Mi motiva a seguire perché è molto impegno. Escrivervi i texti, ideare la pedagogia, stare qui pronunciando, praticando con tanta excelenza. E entre tantas cose che che ho fare, dedicare a questo spazio pubblico e gratuito. È un esforzo che spero valore. Quindi, dare un buon like per a che altri possono avere la diffusione e l'accesso a questo video perché il algoritmo típicamente lo segue difondendo meglio. Qui c'è anche la possibilità di entrare in contatto conmi con i sociali, arroba marconicida e suscríbete al canale di YouTube, activando la campanita, per non perdere nessuno di questi video, né, tampocco, ovviamente, lo che vabbiamo facendo, deve essere quando lo directo, lo live, per a che puoi parlare conmigo. Quindi, io ora ti faccio una domanda e chiedo che mi rispondi a chi direttamente con il tuo italiano. La domanda è facile. Com'è la tua giornata? Descrivi la tua giornata tipica nel commento qui sotto. Io sarò felice di risponderti e di leggere con curiosità com'è la tua giornata tipica? Come vivi tipicamente la tua giornata nel tuo paese o se sei già in Italia? Ti aspetto nei commenti e poi anche qui puoi vedere qualche video se vuoi continuare ad imparare oggi. Io ti saluto, un forte abbraccio da Marco, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!